volete scendere oppure e tutta te che cazzo te frega si va a scendere ma uno chiede un favore se vuoi scendere io ti apro la porta perché il marchesino del grillo va trattato ma a te che cazzo te frega si va a scendere venga si accomodi si accomodi venga Mary Sol venga venga o no venditti Faustino Sgarbi le gulotta Filipe si dica teatro all'aperto oggi grande spolvero anche se piove però se spolvero hai visto l'occhio laser si si l'ho visto l'occhio l'occhio laser quello che salda salda al ferro l'occhio laser ma sti giorni che non ci sono stato si sono stato poco presente ma come si è comportato ma malissimo ma dica alla loro anche confermate e l'anno scorso a Pasqua l'anno scorso a Pasqua benissimo vediamo stanno ma lo vino di Pasqua lo vino di Pasqua ce l'hai ci sono due ma sono morti ma sono morti no sono mini apri la pauliera sto aprendo una cassaforte forte 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 ma ha scroccato ancora ma ha scrocchato ancora oggi i pellet scrocchella ma scrocchella oh le pallette ma guarda ma chi ha pagato eh dovina io chi ha pagato scrocchone no no ha pagato ma via che cancio finito eccolo ve la verità la verità ti fa male lo scontrillo finito deve fare i vitelloni cioè le sei passate eh eh sì eh ancora eh finito deve fare i vitelloni ancora non tanto no ancora ancora il narratore che dice eh dico è sempre peggio di qui sempre peggio sì perché la storia si ripete eh eh lo so è ciclica nonno Faustino invece nonno Faustino sto momento ha detto diciamo io ho fatto l'operazione di qui sul e io gli ho detto dico mamma sa che non fa tanto sotto l'operazione eh davvero dai che nona ti aspetta dai 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 su vai via oh sali non dai calcio oh dai 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 o no c'è quel signore occhio laser che mangi i cappelletti a cena proprio eh e c'è chi mangia sgombro al naturale eh ma bene tu che mangi i cappelletti e tu ma perché le mangi? la dieta di coglione Grazie.